Vogliamo provare hand buff pala Vediamo che insta mi da il store play No, mi manca sta epica E' la leggenda del pala E' una specie di rush warrior Però con le nuove carte Proviamo Esatto, andiamo di arena deck Quindi la carta più forte in teoria E' il prismatic jewel kit Questo anche dovrebbe essere figo Manderei via Samurai Non so se vogliamo tenere la mano di Adal Forse no O forse si Si, in teoria ci sta contro Priest Faccio la protettrice turno 1 Faccio la mano di Adal Poi il porta insegna Non dovrebbe lui giocare a nulla T1 Oh cos'è? E' uno shadow priest Oh shit Allora posso giocare con cosa T1 Oh Ah questo si sdoppia così Ah che figata Lo peschi si sdoppia Bellissimo E quindi poi con questo qui lo pompi giustamente Bello Pompi entrambi Cosa ne penso della nazionale San Marino delle Olimpiadi Ah bello il risultato Finalmente San Marino Può vantarsi di avere una medaglia delle Olimpiadi Un altro mulo Holy shit Però puzza far lui Squenare lui qua Guarda ma è forte sto deck Face mi dovrebbe tradar lui Non so se c'è qualche punish Gioca silence Tradavo qua poteva far semplicemente HP Io non so No questo è il nuovo Zilex Aspettiamo Il nuovo Zilex Parolone Ragazzi questo qua Io senza aver fatto nulla Mi pompa Tutto Oltre a pescare un altro pezzo Mica male Pompa sei pezzi Pomperà Pezzi che poi Spostano Specialmente se adesso Pesco altri scudivini Tipo Murgur No Iotron Ci sta sto deck L'1-1 che pesca le spelle C'è solo male da Dal Che prende Ah no giustamente c'è anche conviction Oh Vabbè comunque il buff lo dà lo stesso Bene Ho scoperto l'interazione Quindi via Niente di questo Pesco Prendiamo pezzo E pompiamo tutto Face Eh merda È fortissimo sta deck Allora io adesso posso fare la protettrice Per continuare a pompare sta roba E sta cosa che ho in mano E Oppure gioco semplicemente doppio taunt 4-5 Dobbiamo semplicemente fare la giocata a mano efficace Non sarei troppo greedy sui buff Tanto gioco a Hysteria Quel mazzo credo Oddio Poi va a capire Che in realtà è un Shadow Priest Anche Freezing Trap attiva il buff Wow Comunque non ho mandato il giacopon pesce Post Post Sub Che mi era stato richiesto Amando adesso Voglio 3 o torbio più grosso? Voglio 3 Ho già sentito a Glesner Sì ho fatto una giornata come a tutti Post Ma gioco in 10 Sto sapendolo in realtà Sapendolo prima Soffri Soffri già prima Sì Non è bello Ma perché giochi in 10? Che è successo? Comunque Riker Questo palo è il primo deck È la prima partita che facciamo con questo deck Quindi Tutto da provare Non so Non so Per ora sembra buono Stiamo giocando contro un mazzaccio anche Bisogna dirlo Però c'è È un mazzo Tempo No Alla fine abbiamo tirato 2 muli 5-6 E costo 4 E abbiamo un altro in mano Poi c'è questo che pesca Questo che pesca Quindi ha anche il card draw sto deck Non è scarso Forse bisogna buttarci dentro delle neofite Per battere i quest deck Magari Bisogna vedere se ha senso giocare a Noiotron Perché è ok figo Se hai questo Eccola Da poi l'ha discoverata Non ce l'ha neanche di main L'ha discoverata col panda Uh lei figa Però forse è più forte Roame Quasi ho paura di millarmi tutto il mazzo con questo Vabbè Cioè ci sta la fine Faccio questo Mi pompo mille carte No Pensando già che ha spell tirato Certo No Gli pesco le carte A lui Che memata Però questo mi dà Una protettrice Un town 2-3 E il 2-2 Quindi ci sta a far questa Più questo Adesso è qui Questo è più questo probabilmente Aspetta però se faccio questo riesco a fare il giant No perché non mi curo di 4 Solo di 1 E quindi Potrei fare race dead Se faccio race dead E questo ce la faccio A giocare il gigante Vedi che figo È il momento di agire Che la luce Quindi Battlegrounds ragazzi Lo riprenderemo dal lunedì prossimo Probabilmente Perché Giocheremo adesso Ladder sia oggi Che Venerdì Sabato e domenica Probabilmente Venerdì sabato e domenica Li alterneremo con Con dei qualifier Sì Lucy è stata fortissima Che novità Sempre ridicola Quella carta Dei giocare lui Pesco 3 Però mi sono pescato questo Che è lo scudo divino Quindi non so se Allora mi pesco Salto Provocazione Scudo Provocazione Scudo c'è Cariel Provocazione Li ho già pescati tutti No c'è Neutron E assalto Non c'è niente C'è Sam C'è tutto in realtà Posso giocarlo Altrimenti gioco lui Pesco una carta Mi gioco le cose pompate Direi ci sta a fare varia Però è un po' uno spray C'è giocarlo adesso Potrei fare questo Davvero No dai peschiamo Beh Pesca 3 carte 8 mana 8 8 Scudo divino Assalto Non male Dove è venuta fuori sta pecora Ah l'ha presa da questo Ok Finalmente ho anche una pecora in mano Mi leva anche varia Allora io posso fare questo Treppo un po' tutto E ci sta direi Ora dobbiamo solo capire Qual è il meglio da fare Probabilmente giochiamo Prima lama Prima lama di Vryn Potrei giocare anche Il Gran Signore Doma Draghi Prima lama di Vryn E fastidio bot Oppure Murgur Questo non è male Bene Pensavo di non poter perdere Sto game Lui ha infinite risorse Poi quella di Lucia Mi ha distrutto C'è 9 tron di main Questo immaginate Spun passamburo Figo Dai basta Verremoval Comunque Ha una pecora in mano Poi ha tutte cose A caso Tipo allora aveva Il 2-3 town Ce l'ha Perché io l'ho generato Io di race dead E Non me lo ricordo Questa l'ho generato A caso Ovviamente Fuori di testa Presa sotto uno Dal pandaren Che schifoso Però che sei Non è giusto Devo samurare Perché quello mi toglie Ah faccio questo Allora Quindi Possiamo fare il kit Possiamo fare la zona astrale La zona astrale Se mi fa sul mirror Diventa problematica Però è più forte Leggendaria Bicipite Zona astrale Ragazzi man Bicipite Ricordatevi ragazzi Chi non lo sa Che se avete Amazon Prime Potete connetterlo All'account di Twitch E fare una sub Gratis Al canale Quindi È un reminder Se ce l'avete Lo potete fare Vi ringrazio chi Farà questo click Per fare la sub qua Mutanus Mi toglie Eh mi toglie Samuro È un problema Che mi abbia tolto Samuro Eh vabbè Ma cosa sta facendo Ma cosa sta facendo Cioè ma mi ha davvero Trovato silence da questo What the fuck Adesso tiro giù tutto Mi sono stancato Ma mi ha tolto Samuro E roba di che roba Che perdo Se faccio il mirror Quindi Eh vabbè Giocherò i tre scudi Oppure faccio questo E questo Sì dai Faccio questo Questo E i due scudi Aspetta ma non rush Me l'ho dimenticato Di sto piccolo particolare Ah ho sbagliato Cavolo Ma sono fortissime Ste qua Ma sono pure rush 6 7 Eh riuscivo a tradare Il Lui Con lui Invece devo usare La 6-3 Eh vabbè Partiene Vabbè allora Tra l'ho tutto Sì questa Bentava uno più grossa Merda Sta combo Me l'ho persa Con la sub gratis Puoi subare I me contro te Sì Se streamano su Twitch Puoi farlo Sì ce l'ho Il tizio che dava Furia del vento Gli adercenti Infatti questi Andavano messi vicini C'è lo mono Va pescato Basta trovare le risposte Però Adesso ha solo mirror Preso da questo Non ci credo Non ci credo Ma cosa fa Seiko Ma cosa fa Porca miseria Non ci voglio credere Ha davvero preso Sol mirror Aveva fatto Non ci credo Merda Rischio di succare E mo Per l'alleanza E per la mia famiglia Che anche qui Ho sbagliato Maledetto me Mi ha fatto Due buy buff Qua Mi ha fatto crashare La testa Con questo mirror Preso da Scorpide Cioè ha preso No Cioè è stato fuori di testa Ha preso Against all odds Dalla cost 2 Poi ha preso Ha preso La pecola Dalla cost 1 Per trovare i miei scudi Ha preso il silence Che mi ha fatto Sui primi pezzi Ce n'era anche un'altra In mezzo Che ha combinato Di risposta Ah il silence Preso dalla bacchettaglia Esatto E poi A fine della fiera Sol mirror Grande che ha preso Il cinghiale Questo è un segno Di sconfitta allora La pecola è arrivata No Niente pecola Oh Ci dovremmo aver fatta Che fatica Non potevamo perdere Contro sto bidone di mazzo Dai era Un'ingiustizia Grazie Almeno abbiamo scoperto Le interazioni Contro sto bidone Che oltretutto avete visto Ha perso la forma d'ombra Tipo un istante Prima della Sconfitta La positioning andava bene Il buffo missato Il positioning Vanno i due forti A fianco Boh Ragazzi dai facciamo Un ultimo game Poi basta Però sto mazzo Non sembra male Ma secondo me qua si manda via tutto Cioè Il kit è troppo importante Hard mulligan per kit Però se non lo trovi È un mazzaccio poi Rip Ora ho un mazzo arena Orribile questo Fa niente Senza il kit Eh giochiamo questo Ciao 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 Qui facciamo lui Manazza assurda Però in teoria questa qua Se siamo contro di quest rug Può Può farcela vincere La maestra della battaglia Bello samuro Peccato È stato talmente inutile Mi sembra siamo contro quest rug Non quest rug Il combo rug Penso che Penso che siamo contro il combo rug Vediamo Ma credo Sia quello lì il mazzo Perché tanto Gira quello lì Con il actioneer E quello con gli SI La quest non l'ha giocata Quindi è più probabile Se è quello con l'actioneer Eh direi di sì Quindi C'è questo E facciamo questo Però dopo a conviction Esposta Un botto di danni No Che è Miracle Vecchio stile Non abbiamo visto Una carta nuova Per ora Io non so Qua è la sfida Cioè sarà un miracle Come un Solito miracle Si beccherà un samuro Più una conviction Quindi un samuro Che tra la tutto Una conviction in faccia Penso Mi faccio prima conviction Poi faccio samuro Attacco uno Due Però dopo Altra conviction Commessa della battaglia 10 carte Frizzino Frizzino Boh Proviamo a smorcare Tanto le carte scontate La quasi tirate tutte L'efficienza È sufficiente Dolorosa questa Cariel Cariel su uno quattro Non è male Altrimenti No ci sta Spugnalata Carte nuove L'asinello Ne ha giocate No Donkey In carte nuove Non le ha giocate Zero Merita di perdere Per questo Ok È il Combo Con il field contact Mi sa Questo punto Questo non si giocava Nel miracle classico Farà il 2-1 E se non la shadow Step è morto Perché noi facciamo Questa più Lui in fiori Nice Qui basta questo In realtà Sì 7 7 più 4 Sono 11 precisi Allì Buono Lo sto mazzo Non è male Il classico mazzo D'arena Che alla fine Della fiera Si gioca Perché comunque Le sue stats Le fa I suoi peschini Li ha Ha lui Ha lui E ha ovviamente Questo Che è OP Poi ha questo Per il late game Di carte Che possono saltare Ci sta il fastidio Bot Che credo sia Dentro lì Per il taunt Perché altro Per dare taunt È Avarian Perché è l'unico Che è da taunt No Sì Non c'è Ah no C'è anche questo Che è da taunt Allora non serve Il fastidio bot Si può togliere Però alla fine Dopo è sempre L'alternativa No Se lo togliamo Cosa mettiamo Al suo posto Magari Ma no Sì L'idea È che Vabbè Le neofit Uccidono Questo Combo rogue Ma Già non si sta Giocando più In come lista In realtà Non è malvagia Questa qui La curva La rispetta Guardate che bella Precisa Che scende giù Quindi se volete Questo deck qua Secondo me Riuscite tranquillamente A fare legend Con questo qui Riuscite a rancare bene Riuscite a rancare bene